a 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 non ce la faccia levarmi niente non mi si è come incollato allo scudo di obama a 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 c'è l'altro non cambiamo posto a minchia sera che sera ho voglia di a 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 pubblicitari intanto io guardo se sia così io colpo a 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 una qua e l'altro steccato qua vado qui la madonna o ancora ho sentito un colpo venghi 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 insomma è un cazzo di piastra aia lola con ste cazzo di unghie figa sempre freddy kruger porca troia c'è 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 la console è lì è lì ok mettiamoci in silenzio radio e proviamo ad entrare dalle scale c'è c'è qualcosa qua c'è 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 sb parби come si c'è n c'è p più o meno è la nostra a andato si ma brother mi dite cosa avete fatto perchè qua mi stanno tirando le bombe io ho tirato le bombe io ho tirato le bombe questo c'è da andare a scale sono 7 ottavo piano scale forta c'erano i miei coltelli qua li hai raccolti tu? no che cazzo ho finito no 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 non mi ritirare su dove sei dove sei? sulle scale bravo no 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 adesso mi rianimo si mette male si mette male ma dove cazzo? ah allora è morto no 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 è sotto ok ho visto che scappava via venga 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 è dentro ok io ho fatto un cazzo è su di lui stare le mani come cazzo ho fatto a vedermi? para vieni giù buttati occhio eh occhio occhio è lì dentro eh bravo ragazzi probabilmente ce n'è un altro fattene via non so se ce n'è un altro bravo occhio occhio fai il giro lungo eh piastrati se ce l'hai o ne più guarda che lì dietro ne ho fatto uno dove chiede aiuto magari alle piastre ok bravo 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 ho tirato il suo malo bravo 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 ma che cazzo, non so, qua c'è un RPK ok, proviamo a buttarci su un altro palazzo sembra puito voi avete tipo bende di cuori pagate vanno qua c'è la banca ma nella banca qua qua sotto la banca è qua ma va a prendere qualche piastro vuoi fare un po' di spesa e poi c'è un contrattino qui faccio lì no no l'acqua ecco lì l'aeroporto sono qua qua due sebi ah che culo minchia in sti scaffali non c'è veramente un cazzo e quando io giubbotto ti do l'altra piastra è mio ah eh vabbè grazie tu amico tu no cazzo sta dicendo ah sono buono oi va che qua è un cazzo che qua è giubbotto ma qua è giubbotto mangia di coraggio, ma è giubbotto aiuto io Sì, non è vero. non c'è una struttura lì avete visto dove sono? no, adesso sto cercando di risalire su, così diamo un occhio hanno fatto il contratto di craccia stiamo arrivando? stiamo arrivando qua? no, siamo noi che voglio arrivare alla faccia loro si, però... ecco, ecco, ecco l'infibia ecco andate il cosci ecco i la comunque non vorrei che se questi stessero facendo quelli erano in tre adesso sono in due adesso quello in macchina era da solo ok, allora è rimasto da solo è rimasto da solo e gli altri due sono andati al cosci ecco 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 co è ok nemmeno Fire si aveva Fiore va a estrarla va a estrarla? eh voliamo dai ci proviamo eh prendiamo il mezzo dai vengo a prenderti vengo a prenderti eh dai allora salite ah ma l'elicottero questo qui eh sì non ho capito dov'è però vabbè è deciso l'elicottero del bot Sì, no, 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 no! Come on! Sei solo? Sì, questo è il mio team, ho già esplitato. ok onde cosci? si che c'è un canno e una cosa tuffa grande c'è un aborto eh ho sentito il profumo della vittoria adesso ci inculano vediamo se c'è il benzinone no niente benzinone sei tu che spari mao? si si dove va? vai a prendere para intanto magari c'è anche c'è un altro zio in giro qua 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 va va ok 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 no ok 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 Sì, sì, sì Sì, sì, sì No, guarda, io non l'ho sbloccato Sì, sì, sì Sì, sì, sì Sì, sì Sì, sì Sì